eccoci alla firma coppia si chiama così contessa come la devo chiamare marina si bene allora il suo deve ha presentato due libri a cerchio la spiaggia ammi libro c'è anche c'è anche i primi 40 anni la riedizione dei primi 40 anni e poi vecchia roma con calma e quello appena uscito porto in giro in queste belle località come milano marittima immagino non so positano portina c'è un consiglio perché ci sono proprio le signore che acquistano il libro e molto che leggeranno un consiglio da dare seguitare a leggere seguitare a partecipare a queste manifestazioni e di non leggere sui tablet ma leggere i libri considerare il libro qualcosa di sacro le pagine del libro sono qualcosa di molto diverso da quello che si scarica dai tablet come ha detto giustamente un gavaro che ha rifatto l'edizione del mio libro i primi 40 anni il bello del libro che il libro non si scarica lo consigliamo anche italo cucci può essere utile anche per gli uomini oltre anche per il signore ecco vedi allora stefino